ciao a tutti allora purtroppo ho scoperto nel 2014 di avere problemi di salute e di avere una malattia cronica che si chiama tiroidite di Hashimoto purtroppo i miei globuli bianchi le mie difese immunitarie sono molto aggressive quindi attaccano la tiroide e pian piano la tiroide può essere anche distrutta da da questi anticorpi e quindi i medici mi hanno consigliato di prendere questo ma so che in ogni paese si chiama con un modo diverso in modo diverso si chiama anche utirox tiroxina quello che volete però insomma è un farmaco da quello che ho capito che non fa lavorare la tiroide ma sostituisce quello che la tiroide produce e quindi il mio metabolismo dovrebbe essere tornato chimicamente normale perché ho il metabolismo di una tartaruga di 120 anni molto molto lento o il metabolismo da rettile si può dire e quindi in teoria dovrei essere grassa o tendenzialmente ma non è sempre così infatti io sono normale però può portare problemi tipo depressione o attacchi di panico che ho già degustato più che abbondantemente nervosismo e alcune volte insonnia dolore articolari e una serie di sfighe di rara proporzione tra cui anche alcune volte avevo letto il tunnel carpale no e soprattutto alla mano destra quindi rallegratevi se siete mancini quindi sì mi sto divertendo con tutti gli effetti collaterali no o sintomi non so come definirli perché anche questo farmaco un sacco di effetti collaterali e io li ho quasi tutti devo dire la verità e quindi la mia vita diventa particolarmente divertente visto che devo lavorare molto devo studiare molto però se qualcuno ha dei consigli da darmi tipo agovuntura fare una dieta eccetera eccetera può dirmelo io vi prego sul fatto della dieta mi trovo in estrema difficoltà perché nella mia dita c'è ogni tipo di dolciume presentato su un vassoio non d'oro ma molto molto ben presentato ecco quindi mi trovo un po' nelle curve in questo senso però se c'è qualche dottore all'ascolto e io vi ricordo che avete giurato di aiutare le persone in caso di bisogno ecco se c'è qualche dottore all'ascolto è pregato di così avere un po' misericordia della sottoscritta che sta veramente impazzendo per lo stress e di farmi sapere qualcosa prima che avrà prima che lui abbia sbagliato il congiuntivo quindi mi ammazzeranno prima che abbia sulla coscienza qualcuno che verrà ucciso da me in un momento di sclero perché il nervosismo è una cosa che ho effettivamente allora io vi ringrazio e fatemi sapere ciao ciao